Alle navi in navigazione e ai porti di scalo, alla mia famiglia e a tutti gli amici ed estranei, questo è un messaggio e una preghiera. Il messaggio è che i miei viaggi mi hanno insegnato una grande verità. Io ho già avuto quello che tutti quanti cercano e che soltanto pochi trovano. La sola persona al mondo che ero destinata ad amare per sempre. Una persona come me, di Outer Banks sull'oceano atlantico misterioso. Una persona ricca di semplici tesori, che si è fatta da sola, che da sola ha imparato. Un porto in cui mi sento a casa per sempre. E che nessun vento, nessun problema, nemmeno la morte, potranno mai distruggere. La preghiera è che tutti al mondo possano conoscere questo genere d'amore ed essere da esso sanati. Se la mia preghiera sarà ascoltata, saranno cancellati per sempre tutti i rimpianti e tutte le colpe. E avranno finito tutti i rancori. Ascoltami, mio Dio. Amen.